Resterà fermo in hangar per un po' il bimotore tipo Pilatus PC6 del valore di un milione e duecentomila euro utilizzato da un'associazione sportiva fanese operante presso l'aeroporto di Fano per le sue attività di paracautismo sportivo. La guardia di finanza di Fano e la sezione aerea della guardia di finanza di Rimini ci ha messo i sigilli eseguendo il provvedimento di sequestro emesso dal giudice del tribunale di Pesaro. L'aereo mobile è stato immatricolato nella Repubblica di San Marino ma utilizzato dall'associazione per i corsi e le attività in via esclusiva permanente e continuativa nel territorio nazionale eludendo così il versamento di circa 230 mila euro di IVA. L'associazione sportiva fanese utilizzava il velivolo in forza di un contratto di noleggio stipulato dapprima con una società sanmarinese nel 2012 e poi con una società maltese ma domiciliata a San Marino. Secondo gli investigatori con queste operazioni la società sportiva formalmente no profit non ha solo risparmiato indebitamente il 20 per cento d'iva ma ha di fatto nascosto il possesso del bene al fisco oltre che essere considerato indice di capacità produttiva è stato utilizzato per lo svolgimento della remunerativa attività di paracadutismo. L'operazione denominata Tango 7 nome in codice del Pilatus ha origine da un controllo fiscale eseguito dagli uomini della compagnia di Fano su input però della sezione aerea della guardia di finanza di Rimini. Alla luce di quanto emerso dall'attività investigativa la guardia di finanza ha denunciato il presidente dell'associazione sportiva alla procura di Pesaro per omesso versamento dell'IVA e detenzione della merce illicitamente introdotta nel territorio nazionale.